Per un eroe dell'Orda, tutte le strade portano al crocevia. Sei qui in cerca di avventura, ma le savane vogliono piegarti. La tua ascia deve essere affilata. I tuoi sensi devono essere acuti. E il tuo cuore deve essere tenace. Forza e onore. Questa è ciò che siamo. Oh no! 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 Oh no!